ho qui 900 grammi di zucca tolgo la buccia e la faccio a fettine così e mi sposto i fornelli in una padella verso un paio di cucchiai d'olio aggiungo un piccolo scalogno che ho affettato due foglie di alloro due foglie di salvia e un rametto di rosmarino e lascio soffriggere tutto lo scalogno è ingrandito aggiungo una decina di capperi e sfumo con 30 ml di aceto di vino bianco e lascio affastire la cipolla aggiungo ora la zucca un pizzico di sale e lascio cuocere a fiamma bassa la zucca è morbida possiamo spegnere e togliere il piatto cospargo poi la zucca con tutte le erbette aromatiche i capperi e il fondo di cottura e la nostra zucca in padella agli aromi è pronta per oggi è tutto io vi saluto e noi ci vediamo domani e ora assaggiamo buonissima 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 buonissima